Potrebbe arrivare oggi a Mansura nel corso della decima udienza del processo la sentenza su Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna che rischia 5 anni di carcere per il contenuto di alcuni suoi articoli. L'aggiornamento di oggi disposto per la consegna di carte da parte della difesa, ma trattandosi di un'udienza davanti a un giudice monocratico, c'è comunque la possibilità di una sentenza. L'incubo giudiziario del ricercatore dell'Alma Mater di Bologna è iniziato nel febbraio del 2020 con l'arresto e 22 mesi passati in carcere per alcuni articoli scritti nel 2019.